Bentornati qua su Fablinker Music, oggi torniamo ad ascoltare Angelina Jordan con questa canzone che mi avete consigliato, che è una cover riarrangiata quando aveva solamente 9 anni, la canzone si chiama I Put A Spill On You ed è molto famosa, lei ci ha fatto una cover, aveva 9 anni e il che fa già capire, insomma per fare una cover a 9 anni non è facile ma dicono che sia una roba veramente assurda quindi devo dire che la mia curiosità è salita a un livello veramente altissimo ovviamente andiamo subito a sentirla a questo punto Grazie a tutti Cosa? Cosa? Mamma mia Stop the things you do Oddio I can't dare Don't put me down I will spend you E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo I don't care if you don't want me I'm yours right now I thirst for you Because you're my life Ooh, ooh, oooooh Ooh, I don't care If you don't want me I'm yours right now E' assurdo, ma ragazzi ma che voce ha? Ma è assurda questa roba, cioè io di voci della musica tante ne ho sentite nella mia vita, ma questa è assolutamente una voce incredibile, pulita, cattiva quanto vuole, Cioè riesce a fare tantissime cose diverse, dalla voce pulita alla voce un po' più rauca, aggressiva, cioè ha veramente un repertorio vocale assurdo. Adesso io non voglio entrare nel merito della canzone perché se non la cover la canzone non è sua, ok, ha riarrangiato però ok, la canzone in sé è molto bella. Però io voglio parlare della sua prestazione vocale ed è quello che sto facendo perché vorrei soffermarmi su questo. E sono rimasto particolarmente colpito, come poi avrete anche visto voi durante la reaction. E niente, sono senza parole. Posso dire che è qualcosa di veramente magico, veramente magico. Poi andremo avanti, approfondiremo questa cantante, no? Andremo avanti perché sono veramente curioso di vedere cos'altro ha fatto. Tra l'altro a breve dovrebbe uscire un nuovo singolo ufficiale perché mi hanno detto che ha cambiato, cioè ha firmato la sua prima, la sua prima etichetta discografica. Se non ho capito male, quindi sicuramente faremo la reaction anche sulla nuova canzone. Però devo dire che ha fatto una roba che non è semplice, cioè un qualcosa di veramente complesso e soprattutto fatto bene. Porca miseria, io sono rimasto, cioè ho avuto veramente la pelle d'oca e sono rimasto veramente estasiato da questa performance. Ragazzi, se avete altri consigli fatemi sapere, vi ringrazio molto per aver visto il video e ci becchiamo alla prossima reaction. Ciao! Ciao!